Excuse me Cristiano, e te posso fare una question? Eeeh, sì, però parla italiano che il British dopo il Brexit non lo capisco più. Tanto già lo so che domanda mi devi fare, perché ho gli occhi rossi e perché sono nato in piscina. Perché mi è entrato un aeroplanino di carta dentro l'occhio, per esempio. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Guarda, ti dirò, il prossimo obiettivo è vincere l'Under-19 che ha Centurion League e Tossico di Medianticchi di Parasticchi. Cioè non ho altri desideri. Se vince un viaggio a Amsterdam, io c'ho un bisogno da acculturarmi, da non avere tutti i musei che mi semagna proprio. C'ho un po' il bisogno da nascito fu una Anna Frank, capito? C'ho un po' il bisogno di una vacanzetta, capito? C'ho la sciabarabba che mi sta a salire a livelli... Madonna, pure adesso mi sta a salire. Dio me ce fa a pensare. Vabbè. Certo che posso partecipare pure se sto più grande ai 19 anni. Sono accomannato io. Sarà un po' difficile confondermi con quelli dei 19 anni perché sembro un po' più grande. Cioè se fossi stato Messi sarebbe stato tutto più facile visto che arto un metro e due tappi di dentifricio. Mo me sa che ve lascio perché devo andare a fare altre due bracciate in piscina senza il bisogno. E noi se vediamo prima il torneo è poi Amsterdam. E quando inizia? Il 10 novembre, sbrigatevi.